Tutti sanno che esistono i classici Disney. Scommetto che non li avete visti tutti. Ditemi quali non li avete visti, perché qua vi sto per fare un elenco di tutti quelli che esistono, spiegandovi la loro trama senza fare spoiler. Questa nuova parte è detta Epoca Sperimentale, perché la Disney farà vari tentativi, alcuni falleranno e altri andranno molto molto bene. Fantasia 2000. Se non vi è piaciuto Fantasia, provate a guardare Fantasia 2000, potrebbe piacervi un po' di più. Fantasia 2000 riprende l'idea di Fantasia, un vecchissimo progetto di Walt Disney che raccontava la musica attraverso una serie di scene. E qui avremo l'idea della natura, delle balene volanti e gli incredibili rumori della movimentatissima New York. Dinosauri. Il meteorite che ha provocato l'estinzione dei dinosauri è appena caduto. Il clima sta cambiando e c'è un solo modo per salvare un gruppo di dinosauri. E questo metodo coinvolgerà effettivamente dei primati. Lilo e Stitch. Anni 2000, Hawaii. I genitori di Lilo sono morti e lei vive con la sorella, ma gli assistenti sociali iniziano a premere un po' troppo. Per quanto Lilo sono bravissima bambina, è estremamente problematica per moltissimi motivi. E le cose non possono che peggiorare quando un'arma di distruzione di massa arrivata da un pianeta sconosciuto finisce proprio lì, vicino a casa sua. Quest'arma è l'esperimento 626. E non si sa se sia più pericolosa l'arma di distruzione di massa, o il professore che l'ha creata, che dovrà assolutamente recuperarla. Le Follie dell'Imperatore. Età precolombiana. Ci troviamo fra i maio, yet's taking, non è molto chiaro. Cusco è un imperatore estremamente egocentrico ed estremamente egoista. Pensa solo a se stesso, ma la punizione divina arriva quando l'ormai vecchissima Isma decide di prendere il suo posto e si libera di lui, dandogli un veleno estremamente mortale. La pozione però è sbagliata. E anziché dargli un veleno mortale, lo trasforma in un lama. Le Follie dell'Imperatore rimarrà sempre negli annali della Disney come il classico più divertente. Atlantis, l'impero perduto. Tutti conoscono la storia di Atlantide, l'antica città che sprofondò negli abissi. Qui però seguiamo la storia di Milo Touch, un giovane americano figlio di un esploratore che è convinto dell'esistenza di Atlantide e aspetta solamente di avere i soldi per poter fare una spedizione e scoprire se esiste davvero. Ma le difficoltà non sono poche e le vittime saranno davvero tantissime. Il pianeta del tesoro, uno dei classici più sottovalutati ed è il primo classico Disney ambientato nel futuro. Ci troviamo nel futuro di chissà quante migliaia di anni e nell'universo le navi sono quelle del Settecento. In un'atmosfera estremamente steampunk, infatti, ci ritroveremo a seguire Jimbo, un diciassettenne che ama l'idea della pirateria. Le cose cambiano davvero però quando un pirata sul punto di morte consegna a Jim una mappa spaziale, una mappa che porta alla leggendaria Isola del Tesoro. O meglio, il pianeta del tesoro. Un pianeta all'interno del quale è nascosto il più grande tesoro che la pirateria abbia mai visto. Coda, fratello orso. Ed è così che subito dopo il primo classico Disney ambientato nel futuro c'è quello ambientato nell'epoca più passata in assoluto. Ci troviamo migliaia di anni prima di Cristo quando ancora in mammuta le tigri denti a sciabola girovagavano per il pianeta e quando capitava quasi tutti i giorni che un animale feroce come un orso potesse uccidere qualcuno. Ma un giovane cacciatore è assolutamente deciso a vendicare la morte di questo qualcuno e a uccidere quell'orso. Ma la natura sa come vendicarsi e quindi questo cacciatore bramoso di vendetta verrà trasformato in un orso. Mucche alla riscossa Ci troviamo nel vecchio West e questa casa nella prateria è l'unica che un malvagio ladro di bestiame non ha ancora preso di mira. Manca solamente il suo territorio dopodiché tutte le terre di quest'area saranno sotto lo stesso nome e curiosamente saranno le mucche di questa fattoria a decidere di loro spontanea volontà di voler far giustizia e quindi risolvere il mistero di questo ladro di bestiame. Chicken Little Chicken Little è un pulcino che vive in un pollaio ovviamente sebbene questo pollaio sia una cittadina vera e propria. E la sua vita cade nel disastro quando dà l'allarme perché è convinto che un pezzo di cielo gli si è caduto in testa. Subito viene preso per il culo da tutto il mondo fanno adesivi su di lui film su di lui è diventato famosissimo come quello che ha raccontato la più grande cazzata del secolo mi è caduto un pezzo di cielo in testa e cerca solamente un'occasione per riuscire a dimostrare che lui è comunque una persona ha fatto un errore ma è passato. Ma per quanto l'errore sia passato diventerà un bel problema il momento in cui qualche anno più tardi un pezzo di cielo gli cadrà in testa di nuovo. BOLD! Credo che descrivervi semplicemente la scena iniziale possa esservi d'aiuto. Seguiamo infatti le piccole vicende di questa bambina felicissima di andare a prendere il suo cagnolino. Lo sceglie in mezzo a tanti altri perché è estremamente cuccioloso e bellissimo. Cinque anni dopo vediamo la bambina al telefono col padre il padre è disperato la bambina non deve assolutamente tornare a casa il padre non tornerà mai più a casa e la bambina deve stare ben attenta a ciò che la circonda. E Robinson una famiglia spaziale un bambino vive in un orfanotrofio ormai da davvero troppo tempo vuole assolutamente scoprire l'identità di sua madre scoprire perché era abbandonato e ha mille domande da farle e mentre aspetta di essere adottato con la sua incredibile genialità riesce a inventare una macchina in grado di mostrare dei ricordi lui è convinto di poterlo usare su se stesso per riuscire a scoprire il volto di sua madre che lui di sicuro aveva visto da infante. La macchina però non funziona e che un viaggiatore nel tempo vuole impedirgli di farla funzionare. Di questo periodo come classici Disney vi direi di guardarveli tutti perché sono interessanti ma la prima metà è decisamente più interessante. C'è qualcuno di questi che magari non avete ancora visto?